Pensiero del giorno. Adesso mi rilasso, perché sono protetto e al sicuro. Affido ogni mia preoccupazione a Dio e agli angeli, permettendomi di sentirmi tranquillo. Sappi che non c'è niente di cui aver paura. Non ti devi preoccupare, perché l'amore di Dio protegge te e i tuoi cari ora e per sempre. Non c'è niente di cui aver paura. Affida a noi angeli i tuoi problemi e le tue ansie e rilassati nella tranquillità e nella consapevolezza che tu e i tuoi cari siete al sicuro. Vegliamo su di te con attenzione, sempre pronti ad accorrere in tuo aiuto. Ogni volta che ti senti preoccupato o spaventato o trascurato, oppure solo, per favore rivolgiti a noi. Puoi farlo ad alta voce o silenziosamente, oppure scrivere. Parlare con noi ti aiuterà a liberarti di questi pesi, permettendoci di lavorare per sostenerti. Non c'è niente di cui aver paura, ora o in futuro. Sei protetto dall'amore di Dio, quindi dormi tranquillo.